diletta leotta è incinta la bionda presentatrice aspetta un figlio da loris carius dopo settimane di gossip e indiscrezioni mai smentiti la conduttrice di dason ha dato il grande annuncio con un video su instagram in cui abbraccia e bacia compassione e allo stesso tempo tenerezza il calciatore tedesco vi dobbiamo dire una cosa ma lo sapete già esplodiamo di gioia noi è la mia pancia ci vediamo presto in tre ha scritto diletta leotta su instagram un post che ha subito fatto il pieno di liche e commenti a fare gli auguri alla fidanzata di carius tanti volti noti dello showbiz italiano come giulia salemi e paola di benedetto la coppia che diventerà a tutti gli effetti una famiglia in estate si trova in questo momento a dubai per una vacanza di relax diletta leotta e loris carius sono legati dallo scorso autunno galeotto è stato un incontro di lavoro a londra al momento non è chiaro come cambierà la vita di entrambi dopo la nascita del bambino diletta leotta lascerà l'italia per traslocare nel regno unito dove gioca loris carius o sarà il giocatore a mollare la premier league in cambio di un club italiano chi è loris carius il fidanzato di diletta leotta e padre di suo figlio dopo il dirigente sky matteo mammì il pugile daniele scardina l'attore ken yaman e il modello giacomo cavalli dallo scorso ottobre diletta leotta è legata a loris carius quest'ultimo ha 29 anni ed è un portiere tedesco che attualmente gioca in inghilterra nel newcastle in passato ha giocato nel magonza nel liverpool e nel besictas diletta leotta il nuovo fidanzato loris si sono conosciuti a londra grazie ad un impegno di lavoro un colpo di fulmine che li ha portati velocemente a chiudere le rispettive relazioni lei con cavalli che lo scorso settembre aveva addirittura portato al matrimonio del fratello carius con l'influencer tedesca janine wiggert poco tempo dopo il primo incontro lo sportivo ha conosciuto la famiglia e gli amici più cari della catanese e anche diletta lotta ha incontrato i parenti di carius complice una fuga romantica in germania grazie a tutti